che strada sta prendendo la socialità online il metaverso ne sentiamo tanto parlare ma lo conosciamo abbiamo capito di che cosa si tratta è tutto sommato uno dei trend del momento per insomma le incertezze e le incognite non mancano fra vecchi e nuovi social la guerra è in corso ed è quella dell'intrattenimento il futuro fra metaversi e nuovi social è il titolo dello speech di rudy bandiera divulgatore anchorman e creator che vi invito a salutare con un applauso grazie 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 buongiorno sarò un aperitivo spero allora ragazzi abbiamo un hashtag qua presente da questa mattina che è presente e io vi voglio parlare esattamente di presente avrei anche una slide con la quale partire la devo far partire io suppongo che per me è molto evocativa è questa io sono certo che tutti voi abbiate giocato a cyberpunk 2077 tutti lo so lo so bene cyberpunk 2077 è un videogame prodotto qualche anno fa ambientato nel 2077 questo mi sembrava la cosa più evidente il personaggio principale si chiama vi questo tizio in motocicletta gira in una città che si chiama night city è una città molto grande in quanto grande città è una città anche complessa da un certo punto di vista a volte pericolosa ma anche piena di opportunità in questa città ci sono dei quartieri e ce n'è uno in particolare che si chiama pacifica è quello in cui sta entrando vi in questo momento infatti a destra c'è scritto welcome to pacifica anche se non si vede interamente la scritta ecco il web oggi i social sono esattamente come pacifica noi ne vediamo un pezzo che è quello che vi vede illuminato dalla propria motocicletta a due metri davanti a noi ma quello che c'è dietro a quella luce non lo vediamo lo chiamiamo metaverso per esempio lo chiamiamo tiktok lo chiamiamo twitch lo chiamiamo in mille modi diversi ma di fatto in realtà non sappiamo bene cosa sia quindi la mia intenzione nei prossimi 18 minuti e 31 sarà cercare di mostrarvi quello che c'è dietro a quella curva e parto parlando di linguaggi linguaggi ovvero come ogni generazione interpreta il contenuto come lo assorbe questa è la generazione z i ragazzi giovani no che assorbono contenuto particolarmente da online video quindi tantissimi video su youtube che è il secondo motore di ricerca più utilizzato al mondo dopo google ed è di proprietà di google i ragazzi usano soprattutto youtube per informarsi per avere informazioni per aggiornarsi pochissimi giornali cartacei ma ragazzi io non so chi è che oggi compra giornali cartacei è piuttosto raro è tipo lo compriamo la domenica no per sentire la festa usciamo andiamo in edicola e compriamo il corrido della sera repubblica il carlino qualunque cosa vogliate proprio per sentire la festa e poi abbiamo tanti tanti videogame tanta tv in streaming on demand quindi netflix amazon prime disney plus e compagnia danzante poi abbiamo in millenials quelli che continuiamo a chiamare i giovani io vi lascio riflettere su sta cosa qua comunque anche qui cambia un po l'assorbimento di contenuto anche se non tantissimo anche qui un poca tv rispetto alle generazioni successive tanta tv rispetto alle generazioni precedenti e tanta tv streaming ancora videogiochi e poi ci spostiamo nuovamente generazione x vedete qua cambia completamente al cambiare dell'assorbimento di contenuto cambia il linguaggio in cui questo contenuto viene erogato e assorbito quindi non si sta parlando solo di dove sono le persone ma di come comunicano i media è completamente diverso questi broadcast tv questa è la mia generazione io sono del 73 faccio 21 anni a marzo mi viene da piangere questa cosa sono 50 giri attorno al sole per rudy a marzo e sono tantissimi ma vedete questi guardano la tv siamo la generazione che alle 8 di sera aspetta mentana quelli giovani non lo fanno quelli giorni se ne sbattono altamente di mentana il che non vuol dire che non sia quella l'informazione interessante o il modo di comunicare interessante semplicemente ad ogni generazione corrisponde un media corrisponde un linguaggio poi abbiamo ora ragazzi boomer è una connotazione anagrafica non è una connotazione intellettiva io ci tengo a precisarla sta cosa qua quando dicono oggi boomer come un'offesa che ormai è diventata una roba piuttosto comune non è giusto perché ci potrebbe essere qualcuno nato a cavallo del boom economico che è molto più sveglio di uno della generazione z anzi è relativamente probabile che sia così quindi non lo usiamo come un'offesa ma vedete come assorbono contenuti tv ad ogni generazione corrisponde un media ad ogni media corrisponde un linguaggio queste sono messe insieme uno di fronte all'altro quindi le potete vedere tutte insieme vedete completamente diverso ma i brand i brand ancora di più la differenza ancora di più generazione z e millennials hanno playstation come il brand più potente e impattante nel proprio cervello poi amazon generazione z apple se non hai un melafonino sei uno sfigato poi amazon guarda caso amazon è trasversale toyota allora ragazzi io faccio delle delle giornate di formazione nelle scuole medie proprio la scorsa settimana avevo 100 ragazzini di una scuola di ferrara che si chiama bonati delle seconde medie e a un certo punto detto ragazzi ma sapete cos'è toyota no non sanno cosa sia toyota un brand che per noi è più grande azienda automobilistica del mondo loro non sanno nemmeno cosa sia perché probabilmente non gli interessano le automobili quanto interessano a me quindi evidentemente comunicano in maniera diversa con linguaggi diversi hanno temi completamente diversi da trattare tra loro abbiamo una presenza generazionale completamente sfilacciata e frammentata contemporaneamente attiva in questo pianeta in questo momento cioè ogni generazione che compra vende a soldi e fa attività si differenzia totalmente da quella precedente da quella successiva questo storicamente non è mai successo perché prima si viveva meno e perché si andava in pensione prima e perché si cominciava a lavorare in un altro momento oggi siamo tutti insieme nello stesso luogo quindi se vogliamo parlare con le persone dobbiamo farlo nel linguaggio che a loro consono l'unica costante che c'è è il cambiamento costante lo so che questa potrebbe sembrare una banalità ma ci dobbiamo fare i conti minuto dopo minuto se dieci anni fa avessimo detto avessimo preso un ragazzino dieci anni gli avessimo detto carezzandogli la testa cosa vuoi fare da grande cosa ci avrebbe detto il pompiere ok ma dai un ragazzino dieci anni fa ci avrebbe detto il calciatore perché il calciatore la rappresentazione plastica di quello che noi definiamo successo soldi popolarità il che non vuol dire che sia eticamente corretto sto dicendo che è così ci avrebbe detto il calciatore se oggi andiamo da un ragazzo da una ragazza gli diciamo cosa vuoi fare da grande cosa ci dice io ho voluto raccogliere tutte le vostre bofonchiate che credo che siano passate da influencer a youtuber in questa cosa qua lo conoscete nessuno di noi conosce questo ragazzo eppure giorgio calandrelli a 1,35 milioni di follower su youtube e quasi 2 milioni su twitch giorgio calandrelli power è un gamer di professione ora lo fa su twitch in particolare che cos'è twitch brevissima digressione facebook cosa pubblichiamo noi su facebook in genere noi pubblichiamo quello che mangiamo a pranzo le nostre vacanze e dei gattini pelosi queste qua sono le tre cose che pubblichiamo oppure ci lamentiamo ci lamentiamo dello stato delle tasse degli scioperi di tutte queste cose qua su facebook instagram invece condividiamo la nostra vita molto meglio di quanto non sia in realtà su twitter non ci scrive più nessuno tranne ilon musk e quindi ogni social al suo modo di comunicare ecco su twitch noi condividiamo le nostre partite ai videogiochi io gioco a fifa call of duty a destina cyberpunk e condivido con la mia community 1.8 milioni di persone la mia partita la gente mi guarda giocare voi direte ma che gusto c'è a guardare uno giocare esattamente come andare allo stadio andiamo a guardare le persone giocare quindi cambiano completamente le dinamiche se noi abbiamo una passione che è il calcio andiamo allo stadio se noi abbiamo una passione che è fortnite guardiamo power e siamo 2,2 milioni di persone a guardare power giocare questo per noi è incomprensibile ma non importa è un fatto con cui dobbiamo fare i conti il cambiamento di cui parlavo prima perché tutti quando pensiamo al cambiamento diciamo ma se mai io sono pronto poi vediamo sta roba qua diciamo che cazzo forse c'era qualcosa che che mi sfuggiva da un certo punto di vista e il cambiamento comprende tecnologie social digitale mondo digitale trasversale a 360 gradi e permettetemi una digressione su questo sul metaverso allora ragazzi chi non ha mai sentito la parola metaverso ok chi frequenta in maniera assidua il metaverso ok perfetto questa la dice alta anzi la dice in maniera precisa sull'alta percentuale di frequentanti del metaverso sapete perché sono così poche le persone che frequentano il metaverso perché di fatto il metaverso non esiste ci sono molti metaversi ma il metaverso non esiste vi faccio capire quello di cui sto parlando è una parola nata nel 1992 in un romanzo cyberpunk tanto per cambiare che io amo letto due volte questo romanzo bellissimo si chiama snow crash e in snow crash stevenson aveva immaginato un mondo in cui le persone possono muoversi condividere interagire attraverso avatar personalizzati il metaverso qualcuno di voi ha visto ridi player one suppongo il il film è quella roba lì per capirci attenzione perché meteo meteo bolle partner di america insomma tutta questa roba qua lui è uno che la sa veramente lunga in riferimento alla tecnologia ea tutte queste cose è stato responsabile strategia globale di amazon ed è considerato ad oggi uno dei più importanti studiosi diciamo da un certo punto di vista del metaverso che cosa dice quindi se studia qualcosa e ne parla di qualcosa vuol dire che questo qualcosa esiste ma come ne parla ne parla in questi termini dice che il metaverso per essere tale deve soddisfare sette caratteristiche peculiari sono le seguenti persistente non c'è accendi spegni un videogioco lo potete accendere spegnere un metaverso è un mondo e come tale è sempre lì che voi usciate o entriate ci siate oppure no è sempre lì sincrono il tempo esattamente quello esterno quando entrate dentro e state fuori o dentro un'ora o fuori un'ora il tempo è esattamente lo stesso nessun limite di utenti il mondo non pone limite di utenti siamo in 8 miliardi abbiamo detto questa mattina quindi non possiamo pensare a un luogo in cui ci sono 40 giocatori e basta non sarebbe un metaverso economia reale un'economia autogestita interna una moneta basata su un'economia altrimenti non è un metaverso interpolabilità quello che io faccio nel metaverso deve essere esportabile su altre piattaforme faccio un esempio banale gioco a fortnite compro una skin per il mio omino di fortnite posso farla indossare al mio avatar su meta su facebook reti pubbliche private qua è una cosa un po tecnica cioè il metaverso non può essere gestito solo da reti di proprietà privata né solo da reti di proprietà pubblica per una questione appunto per poter sottostare a tutte le altre regole ed infine contenuti ed esperienze generati dagli utenti non ci deve essere qualcuno che genera le cose ma devono essere tutte cose generate da noi si chiamano ugc contenuti generati dagli utenti di qualunque tipo che vanno dall'abbigliamento dei propri avatar fino alle land fino alle terre fino alle case qualunque cosa se queste sette caratteristiche sono rispettate allora possiamo parlare di metaverso oggi non ce n'è nemmeno una ce ne sono tantissimi sandbox decentralette roblox vr chat somnium space second live division network forse second life lo conoscerete perché c'è da 15 anni probabilmente ma nessuno rispetta queste sette regole il che non vuol dire ripeto che non esistano delle dei giganteschi e anche da un certo punto di vista performanti test a livello di metaverso ma nessuno è il metaverso io ci tengo a precisare questa cosa qua e poi capirete alla fine nel perché facciamo un po di esempi perché che cosa hanno fatto le aziende sul metaverso hanno fatto qualcosa suppongo supponiamo nike ha edificato la sua città immaginaria si chiama nike land e la fatta su roblox che è considerato uno dei metaversi che cos'è roblox è un videogioco quindi nike ha preso un posto esistente ci ha costruito dentro una città e i frequentanti di questa città di nike non sono lì per nike sono circa 11 milioni le persone passate nella città di nike ma sono lì per giocare a roblox e mentre sono lì vanno anche nella città di nike adidas vende gli nft che i non fungible token più o meno ne avete sentito parlare tutti di nft è una un costrutto digitale unico quindi una foto jpeg può essere un nft cioè può essere duplicata può essere moltiplicata ma quella foto digitale quella jpeg è unica e può essere di proprietà di qualcuno adidas vende gli nft della linea dentro al metaverso su open sea guardate che furbi che sono stato hanno chiamato questa linea dentro al metaverso ma vendono degli nft su un sito web qua di metaverso non c'è niente sempre adidas ha acquisito acquistato un terreno su sandbox in questo caso possiamo parlare non di un video game ma di un vero e proprio metaverso in cui tu entri con un avatar per costruire la land che si chiama adiverse ad oggi inesistente quindi hanno investito comprato ma non hanno costruito balenciaga discorso diverso ha fatto una linea di capi di abbigliamento per fortnite attenzione ragazzi perché qua la cosa cambia fortnite è pieno di gente è popolato e le persone che vanno in fortnite lo considerano un luogo sociale tu in un luogo sociale vuoi essere vestito bene e quindi compri la skin dici papà mi dai 5 euro che compro la skin di balenciaga su fortnite tu non capisci niente di quello che ha detto tuo figlio e gli dai 5 euro piuttosto che chiedere cosa questo è un esempio di metaverso fortnite ha un'economia ha una popolazione è persistente esiste le cose si possono vendere e comprare certo non rispetta tutti i sette parametri ma è una delle cose che oggi abbiamo più vicine a un metaverso gucci town perché io leggo spesso i giornali che parlano di queste cose questa è saltata fuori tantissime volte quartiere virtuale dell'ecosistema della piattaforma roblox torniamo lì ragazzi torniamo su un videogioco cioè gucci non ha investito chissà dove ha investito in una piattaforma di videogame già esistente e popolata sempre gucci apre un'altra land si chiamano no un'altra un'altra città ma mettiamo per capirci su sandbox la chiama gucci vault e la chiude il 9 novembre dal 9 novembre gucci non è più presente nel metaverso di sandbox io l'ho andata a vedere prima chi chiudesse questa qua questo sono io che faccio cose puoi prendere moto motociclette puoi girare attraverso che so i tessuti in questo caso io credo rappresentassero tessuti quella roba lì puoi gironzolare puoi fare cose più o meno divertenti però mi sentivo anche piuttosto scemo a stare in una città da solo girare in moto in un posto che si chiama gucci town non è che avesse tutto questo senso è stata chiusa ma parliamo di meta marco monte di zucchero fondatore di facebook oggi meta ha puntato tutto su di un mondo che oggi non esiste è ancora da costruire attenzione non sto dicendo che non esisterà è ancora da costruire il metaverso di meta nell'ultimo trimestre questo il corriere della sera nelle slide vi ho messo il link perché se volete andare a approfondire qua è costato nell'ultimo trimestre 3,7 miliardi di dollari ma non c'è la settimana scorsa il financial times ha pubblicato un paper in cui una lettera aperta dei finanziatori di meta che dicevano zakenberg ti impediamo di spendere più di 5 miliardi quest'anno in metaverso 5 miliardi ragazzi gli hanno messo gli altri uno schiaffo sulla mano gli hanno detto basta mettila smettila di spendere più di 5 miliardi la sabadina più di 5 miliardi non la puoi spendere in una cosa che ripeto di fatto non c'è il che non vuol dire che non ci sarà in questo momento quella che vi ho raccontato è la situazione voglio arrivare a tre cose su cui riflettere il metaverso io sono certo il metaverso sono certo che sarà realtà ma al momento sono molti e dobbiamo capire dove muoverci per poter investire o meglio per poter erogare dei fondi che abbiano un senso mi spiego il senso non è vendere case sul metaverso non per forza Gucci non è andato a vendere a vendere abiti su sandbox è una leva di marketing tu vai nel metaverso costruisci la tua città e i giornali ne parlano allora se la vedi come forma di advertising va benissimo benissimo ma bisogna capire bene che cosa farci e dove farlo due sperimentare corretti ma come dicevo adesso bisogna essere consapevoli del dove del come perché andare sui metaversi è una cosa assolutamente corretta ma bisogna ripeto fare attenzione a dove erogare le proprie energie i propri fondi e le proprie forze e tre l'informazione questa non è una roba che riguarda voi ma è una roba che riguarda noi no ecco questo è per me uno dei più grandi geni italiani nel secolo scorso è decrescenza lo conoscete più o meno tutti e dice decrescenza a volte mi viene il sospetto che gli autori abbiano scritto più per i colleghi che non per tutti gli altri quando noi leggiamo qualcosa su un giornale su un sito su un quotidiano spesso anch'io ho la sensazione che la chi l'ha scritta l'abbia scritta più perché i colleghi non dicono questo non sa niente piuttosto che per noi e quindi vengono montate delle soluzioni che a noi sembrano di un certo modo ma che in realtà dovremmo vagliare e valutare perché assolutamente i metaversi sono un'opportunità assolutamente i metaversi arriveranno a brevissimo assolutamente dobbiamo pensare a degli investimenti così come assolutamente oggi un metaverso non esiste anche se continuiamo a chiamare il metaverso qualcosa che di fatto non sappiamo nemmeno che cosa sia importantissimo è in un libro che si chiama homo deus harari dice un tempo il potere era avere accesso alle informazioni oggi il potere e sapere che cosa ignorare se non noi siamo in grado di capire dove erogare i nostri soldi senza fare investimenti sbagliati perché abbiamo ignorato perché invece abbiamo ascoltato dei consigli corretti e questo lo dobbiamo fare con dei consulenti parola che è tornata fuori un miliardo di volte oggi con dei consulenti che siano in grado di aiutarci allora benissimo altrimenti rischiamo di buttare via i nostri soldi e nessuno piace buttare via i propri soldi grazie a tutti i ragazzi grazie 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 grazie